Presidente Di Marco, partiranno a breve i lavori per il completamento e l'adeguamento della pista ciclabile nella zona nord di Pescara e nel comune di Montesilvano in particolare? Siamo già al lavoro da qualche settimana e abbiamo anche l'ambizione di poter concludere entro la fine di giugno i lavori interessanti, il tratto di strada che va da Montesilvano fino ad arrivare a Francavilla, passando per Pescara. Noi abbiamo una esigenza, quella di rendere definitivamente possibile questo risultato della pista ciclabile Bike to Coast, che è tanto attesa non solo dalla città di Pescara ma da tutta la comunità adriatica che guarda con interesse a una soluzione che molti avrebbero già voluto poter avere a disposizione. Io sono soddisfatto del lavoro fatto dalla provincia di Pescara, dalla struttura tecnica, l'ingegnere d'Incecco e con la condivisione anche del sindaco di Pescara e del sindaco di Montesilvano, che hanno con noi appunto voluto mettere in piedi questo progetto così ambizioso con un finanziamento di 1 milione e 100 mila euro. Come provincia di fatto vi siete sostituiti ai comuni? Esattamente questo perché siamo noi diciamo delegati a questa formula diciamo concertata con gli enti locali ma la cosa più importante è che abbiamo anche concertato le soluzioni che gli stessi comuni ci hanno appunto comunicato nelle conferenze di servizi e abbiamo appunto inteso agire rispetto anche alle precarietà che ciascun comune ci ha voluto segnalare e che noi abbiamo fatto proprio.